buonasera ragazzi eccoci qua per commentare le tre partite odierne di euro 2020 altri verdetti stasera quindi olanda che vince belgio che vince entrambe anche loro vanno agli ottavi di finale come previsto diciamo come pronosticato le due squadre favorite del girone passano il turno l'olanda mi sembra che sia già prima anche dove si perde alla prossima il belgio forse potrebbe bastare un pareggio comunque comunque andando per ordine partendo da stasera olanda che vince 2 a 0 contro l'austria una partita poi non così spettacolare diciamo che l'olanda si è mangiato un po di golo soprattutto nel primo tempo mi sembra depai dopo l'1 a 0 dopo il rigore apprendendo a porta vuoto ha spiegato un gol praticamente fatto nel secondo tempo dopo il 2 a 0 un contropiede ci sono stati poi di successivi e anzi vijnaldum e l'altro come caspita si chiama danfred non mi ricordo chi no era l'altro quello che ha fatto l'assist del secondo gol entrambi volevano il gol per forza e fatto sta che non sono un passi pallone non lo farai mai quindi poco gioco di squadra erano già 2 a 0 però comunque ha dato un dare il risultato fa sempre piacere in certi casi austria che si è vista così così poca roba l'austria poca roba poi è entrato l'azzaro sicuramente carco giuda sì poi alaba alaba che ha avuto una mezza occasione verso il finale ma non c'è stata molto partita diciamo quasi quasi possiamo dire a senso unico l'austria non è che abbia meritato tanto di pareggiare certo occasioncino ne hanno avute però di per sé l'olanda ha pressoché dominato quasi dominato la partita e più interessanti quelle del pomeriggio il belgio vince 2 a 1 con la lo opereranno i metteranno una specie di space me e di space maker di 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 pace make peace make ragazzi chiama nel per il cuore non si sa se poi tornerà a normalità o non lo so ma di marcas invece ha perso ma si è fatta valere ha perso testa alta e in parte dispiace partita a razzo una serie di occasioni il belgio poi e lukaku lukaku ragazzi lukaku un man of the match non è neanche segnato è man of the match due entrambi i gol diciamo nascono da 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 sue invenzioni il primo gol è partito da centrocampo ma comunque la danimarca si è fatta valere comunque ha preso anche la traversa anche sotto quando era sotto insomma diciamo che questa danimarca perde 2 a 1 ma beh beh secondo gol del belgio grande azione per carità però comunque forse un pareggio per quello quanto meno visto dai highlights sostanzialmente visto a pezzettoni è un peccato per la fine delle marca sostanzialmente zero punti la prima giornata è successo quello che è successo ma perdono la finlandia e mo va perdere col belgio non meritando e fatto sta che è fuori da da europei con con zero punti e sostanzialmente fuori d'europea anche con zero punti anche la macedonia macedonia e contro la finlandia si è fatta valere e non contro la finlandia cazzo dicendo ma con chi è giocato la porca miseria c'ho 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 vuoto mentale con chi ha perso l'ucraina 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 ucraina perde 2 a 1 2 a 1 non meritando di perdere pareggio ci stava sinceramente mi piace comunque non esperienze queste competizioni così importanti pante vi ha annullato il gol peccato perché pante è un grande pioniere e 2 a 0 sembra per definito però c'è da riaprirla la macedonia il rigore dato all'ucraina non l'ho capito sinceramente quel fallo di mano io non li capisco qualcuno mi spiega che si fa di mano come cazzo si fischiano perché se non fischi quello quello della turchia con l'italia no che era nettamente con il braccio staccato dal corpo lì lì in quella punizione che era in barriera si gira e la prende qua ma che cazzo di rigore è dovete spiegarmi a me sti rigori di mano non capisco il rigore era sbagliato però io sti regolamenti non li capisco una volta li fischio una volta non li fischio ma un po a piacimento ma ancora non l'ho capito veramente ancora non l'ho capito e comunque dare un rigore per un fallo di mano presunto che comunque stava proteggendo è scandaloso è scandaloso perché così falsi le partite perché una punizione una barriera e la palla dove va va cazzo non sai dove ti arriva il pallone se sei in barriera puoi prendere in qualsiasi posto non dipende da te dipende da quello che calcia quindi se uno si gira in qualunque modo si gira ti rimbalza sul braccio cosa fai te lo tranci non capisco questi rigori non li capisco qualcuno mi spiega perché non li capisco perché a questo punto deve anche quello lì con a noi con la turchia ragazzi qua non lo so comunque poi con tutto il var ma comunque vabbè sostanzialmente allora i verdetti anche oggi verdetti belgio e olam belgio con fatica è passato comunque il turno diciamo che il momento d'italia è quello che ha passato il turno un po più facilmente per così te neanche contribuirà dei risultati però vabbè lì è tutto dire e quindi ragazzi una serata importante e diciamo che le partite di 10 poveriggio che tra l'altro non neanche visto ho dovuto vedere anche lì a spezzettoni sono state credo più spettacolari rispetto a quella di quella all'olanda di austria di stasera che comunque non c'è stata quasi partita domani 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 ci saranno due derby repubblica cieca contro repubblica cieca finchia ragazzi c'è un memoria pure io scossi e inghilterra repubblica cieca e l'altra dalle parti porca miseria non mi viene in mente non mi viene in mente comunque l'altra squadra che poi mi verrà in mente tutte queste squadre 24 squadre tutto in testa no non mi ricordo più veramente repubblica cieca boh poi non lo scrivete voi nei commenti e quindi ragazzi noi intanto poi ci godiamo quando è che giochiamo? tra l'altro domenica quindi ci guardiamo tutte le altre partite e poi sabato ecco sabato poi sarà un weekend bello un weekend bello perché ci sarà Portogallo-Francia o Portogallo-Germania in una delle due partite comunque saranno partite intense intense da vedere da vedere assolutamente ragazzi buona serata buonanotte noi ci vediamo domani con un commento di altre partite scrivetevi al canale mi raccomando io Gameplay Prediction di Italia Galles penso di farlo sabato sabato probabilmente nel pomeriggio mentre il pomeriggio cambiamo un po' orario orario variato a presto ancora passatemi bene vi chiedevo al canale ciao